le armi elementali dovrebbero essere in grado di fermarlo quindi le armi senza elemento non ci saranno d'aiuto avete sentito cacciatori grazie provate a tenere dal mondo, dovrebbero aiutarci a capire quali raggiungi sono più efficaci i tuoi bonus elementali e di stato non hanno effetto a quanto pare ti è stato inflitto un malista drago grazie a tutti 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 grazie a tutti